E adesso ci spostiamo a Pianella per parlare di un importante ritrovamento, un libro datato 1600 che parla della storia di questo comune, ma noi per saperne di più ci colleghiamo in diretta con il nostro Luca Pompei. Luca buongiorno a te, allora di cosa si tratta esattamente? Buongiorno Anna, buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Intanto un'esclusiva per la nostra pagina Facebook di Rete 8, di questo ringraziamo lo storico Loris Di Giovanni e il comune di Pianella. Di cosa si tratta? Si tratta del primo registro, eccolo qui, di deliberazione comunale datato 1600. Il comune di Pianella aveva conoscenza del più antico documento comunale risalente al 1800, ma questo addirittura è di due secoli prima. E la storia che lega un po' questo preziosissimo documento è legata ad un altro personaggio affascinante, Enrico Sappia De Simone, che è un agente segreto di Giuseppe Mazzini, giunto a Pianella proprio per raccontare la storia di questo comune, è arrivato in possesso di questo documento, poi questo documento ha fatto una strada un po' particolare, acquistato da vari collezionisti e appassionati di documenti antichi e è ritornato in possesso proprio di Loris Di Giovanni in una recente fiera dell'antiquariato a Laurum di Pescara. Loris Di Giovanni questa mattina, proprio davanti alle telecamere del profilo Facebook di Rete 8, le ha regalate, le ha donate al comune di Pianella nelle mani del sindaco Sandro Marinelli che ci ha assicurato realizzerà una teca all'interno della sala consigliare del comune per ricordare un po' a tutti la responsabilità degli amministratori comunali e il dovere che hanno del bene comune per tutti. Insomma, un documento importantissimo, pensate, risalente al 1600, il primo registro di deliberazione del Consiglio Comunale di Pianella. Insomma, questo vi abbiamo proposto stamattina in grande esclusiva per gli amici di Rete 8 su Facebook. A te Anna. Grazie a tutti.